L'astucio delle regole è stato pensato per essere uno strumento di facile utilizzo sia per i bambini della scuola primaria, ma anche dei primi anni della scuola di secondo grado, la scuola media, sia per gli insegnanti che per i genitori. L'astucio delle regole è stato pensato per essere funzionale sia dal lavoro in classe che al lavoro individuale a casa. È facilmente consultabile perché ognuno degli argomenti specifici del percorso di matematica è stato raggruppato, costruito in continuità dalle conoscenze più semplici alle conoscenze più complesse, per cui il concetto di numero parte appunto dai numeri entro il 10 fino ai numeri che arrivano al milione, per cui all'interno di questi singoli percorsi del numero, delle operazioni, delle frazioni, eccetera, in tutte le varie sezioni dello strumento, a seconda della conoscenza che ciascuno cerca, la può facilmente individuare in un percorso a difficoltà crescente. Ogni ambito di contenuto è identificato da un colore che accompagna il margine della pagina. Ogni pagina è costruita partendo da una vignetta che aggancia le conoscenze matematiche all'esperienza del bambino. L'attenzione maggiore è stata posta alla costruzione di una successione di descrizione verbale di ogni passaggio dell'algoritmo di calcolo, in modo che il bambino costruisca correttamente la sequenza di parole che accompagna, che sostiene l'esecuzione di un algoritmo di calcolo. Può essere utilizzato sia dagli insegnanti come punto di riferimento durante l'attività didattica, ma anche da persone esterne alla scuola, come per esempio tecnici riabilitatori o genitori che vogliono aiutare i figli nell'attività di esecuzione dei compiti a casa.